Un pomeriggio di tempesta che ha impedito di stare con il naso all'insù a guardare le stelle. La notte di San Lorenzo quest'anno è stata rovinata dalla pioggia incessante che ha dato tregua solo in serata, portando però un abbassamento notevole delle temperature. Una boccata d'aria fresca per molti, ma anche un'occasione mancata per chi voleva esprimere un desiderio guardando le stelle cadenti. L'osservazione della volta stellata al bagno Singita di Marina di Ravenna, in collaborazione con il Planetario, è stata rimandata a data da destinarsi. Rimandati invece stasera, martedì 11, i tanti eventi previsti a Cervia, fuochi d'artificio, concerti, mercatini e apertura straordinaria degli stabilimenti balneari. Postecipata al 25 del mese, anche la caccia al tesoro con le torce per i bambini da 6-12 anni al parco archeologico di classe e si spera che questa sera, tempo permettendo, le stelle finalmente esaudiranno ogni desiderio.